Ciao, se stai guardando questo video è perché hai scelto di partecipare a SMXL, uno degli eventi più importanti del settore o comunque in ogni caso stai pensando di farlo. Sono Davide Mascetti, consulente di webmarketing che da qualche anno aiuta piccole e medie imprese ad avere successo sul web. Durante il mio speech ti racconterò come promuovere da zero un e-commerce, che tipo di campagne scegliere e come ottimizzarle per aumentare al massimo errore del tuo cliente. Bene, non ti anticipo altro, segnati la data 7, 8 e 9 novembre, non puoi mancare, ci vediamo a Milano!